Dic, un'altra grande prova, miglior giocatore in campo, 19 punti, non ti fermi più ormai? Sì, no, siamo in forma tutti quanti, è bellissimo giocare così, siamo tutti contenti. Senti, è una bellissima lotta per il giocatore titolare in posto 4, perché siete quattro giocatori ad altissimo livello. Sì, certo, per quello noi tutti i settimane diamo l'anare forte, perché siamo tutti quattro forti e per coach è difficile. Vi aspettavate di giocare subito così bene dopo appena quattro partite? Sì, così ho detto, siamo in forma, tutti i partiti sono nuovi, 0-0.